quest'aula con la legge ed evidentemente non l'ha letta bene, non era consapevole di quello che votava visto che ci sta tornando sopra, rimarcando e evidenziando dei principi che già erano presenti a differenza su quando eravamo entrati nel merito presentando degli emendamenti una volta scorsa anche per scongiolare di impugnativa del governo che invece c'è stata visto che quest'aula non ce li ha accorti. Contradizione del fatto che lei evidentemente non l'ha letta bene che era la legge perché quella legge non era del Movimento 5 Stelle, era l'iniziativa popolare quindi ben circa 40.000 cittadini hanno avuto che il Consiglio regionale dell'Azio si è firmato su questo punto detto questo vorrei ricordare al centro-destra di riflettere in particolare al Consigliere Rigerma di riflettere quando interviene ed entra nel merito delle persone e delle questioni assinenti ai gruppi consigliari per un semplice motivo perché non gli vorrei ricordare ogni volta che il suo ex scopo gruppo in questo momento non può votare questa legge perché sta in galera acquistato con 416 bis perché evidentemente qui c'è qualcuno che fa le cambiate, noi con i cittadini qualcuno le fa con qualcun altro evidentemente. Non vorrei ricordare inoltre che oggi manca di assente dal gruppo forse Italia il Consigliere Palozzi è evidentemente impegnato su qualcosa altro come dalle ultime vicende note su Cotran e le promesse di buon uscita che venivano fatte. Quindi evitiamo per favore di farla morale e mettetevi l'anima in pace che finché ci saranno i cittadini nelle istituzioni difenderanno la volontà popolare in Consiglio regionale, nel Parlamento e ovunque saremo. Difenderemo la volontà e faremo sì che il frutto della volontà popolare rimanga tale e non venga stravolto da interessi privati di qualsiasi natura. Quindi è vero, non abbiamo fatto vendamenti a questa legge perché questa legge va a modificare soltanto le impugnative che ha fatto il Governo da alcuni punti di vista formali e giuridici e rimane intatta quella che era la volontà e espressione di 40.000 cittadini. Grazie.